Sandro Cruciani, direttore della direzione per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat. Stamattina è chieggiato un tema che è quello del consumo di suolo e della qualità di vita. Le statistiche ambientali e territoriali nel lavoro dell'Istat da qualche anno sono fondamentali nell'elaborazione di un rapporto che è il BES, che misura il benessere equo e sostenibile per i cittadini italiani. Che cosa ci raccontano queste statistiche e quale sarebbe l'importanza anche di vederle non solo rappresentate nei vostri rapporti ma anche considerate nell'elaborazione delle politiche? Sì, tanto grazie a tutti e grazie soprattutto al Centro Studi sui ricerche sui consumi di suolo per averci invitati. L'Istat segue sempre con molto interesse questo tema. Ricordo che abbiamo subito, tra virgolette, ben tre audizioni dalle commissioni parlamentari. L'ultima appena l'anno scorso proprio più o meno di questo periodo. Quindi diciamo siamo molto attenti a questo tema, stiamo molto interessati ovviamente a sviluppare approfondimenti, collaborazioni e quant'altro. Allora, ho due provocazioni che mi allontanano dallo schema che mi ero dato per questo intervento. Comunque proverò lo stesso a rispondere. La prima è sul BES. Allora, il BES intanto è un tema che per la prima volta è stato inserito in Italia, credo sia la quarta o la quinta edizione, non ricordo esattamente, che dà un messaggio abbastanza articolato e approfondito su qual è la condizione di vita dei cittadini, al di là della semplice ricchezza finanziaria o ricchezza produttiva. Ovviamente il tema del consumo di suolo si inserisce in questo quadro, anche se non in maniera specifica. Ne misuriamo all'interno del BES tutta una serie di conseguenze. Ad esempio, la conseguenza è l'illegalità, diciamo l'aspetto illegale dell'edificato, cioè quindi tutto il non autorizzato, tutto ciò che è stato costruito in maniera non autorizzata. Questo è un primo tema. C'è anche un tema abbastanza importante che intendiamo sviluppare perché è un altro tema su cui, e questo forse mi aggancia a un altro dei temi che volevo affrontare, cioè era qui il tema delle conseguenze del consumo di suolo. Una delle conseguenze è il paesaggio, la perdita di questo bene, anch'esso non riproducibile direi. E su questo abbiamo tentato di misurare queste perdite, questa diminuzione del valore, ovviamente non economico, ma valore misurato in termini numerici, di questa risorsa. E qua mi aggancio appunto a uno dei punti su cui volevo intervenire. Uno dei punti è che oggi ho visto un po' di mancanza di questo tema, cioè di capire quali siano esattamente, misurare quali siano esattamente le conseguenze di questo fenomeno. Abbiamo analizzato, approfondito, dettagliato e sezionato abbastanza in maniera approfondita tutte le misurazioni, le conseguenze, gli andamenti, le previsioni e quant'altro. abbiamo parlato poco di che cosa significa in termini di appunto di paesaggio, di risorse non riproducibili, di inquinamento, di qualità della vita dei cittadini. Questo secondo me è un tema su cui è necessario riflettere, è necessario approfondire e sul quale l'Istat è disposto ovviamente a lavorare, ma a lavorare soprattutto anche in collaborazione con chi si occupa già di questi temi, con Ispra, con CRCS, c'è il WWF, lega ambiente e quant'altro. Quindi è un tema su cui e qua mi collego a un'affermazione che è stata fatta, non ricordo da chi, sul fatto che diciamo stiamo lavorando tutti quanti in maniera troppo verticale e dovremmo forse ampliare gli scambi orizzontali tra istituzioni. Su questo l'Istat si trova assolutamente disponibile. Si trova disponibile anche ad affrontare altri due temi, poi raccoglierò anche la provocazione di Marchetti. Questi due temi, uno riguarda, ed è stato già diciamo in parte ampiamente discusso, affrontato, è il tema delle classificazioni e delle definizioni. Questo forse probabilmente è un tema che vede l'Istat in una maniera un po' rigida, diciamo, quindi molto metodologicamente molto solida, però è un tema su cui non possiamo fare a meno di ragionare. Qui abbiamo parlato di lanteche, di impermeabilizzazione di consumo di suolo e quant'altro. Il problema è che tutte queste definizioni poi generano inevitabilmente misure differenti. Allora, è chiaro che la comunità scientifica deve continuare a dibattere su questi temi, confrontarsi senza nessun, diciamo, velo, ma è anche vero che prima o poi bisognerà arrivare a un, non voglio dire una definizione condivisa, ma quantomeno delle definizioni coerenti, almeno se non altro con se stesse, e che generino misure altrettanto coerenti. Quindi questo è sicuramente un primo tema. Noi, ad esempio, sul tema consumo di suolo riteniamo che, diciamo, l'approccio sull'impermeabilizzazione è un approccio corretto oggettivamente, tecnicamente ineccepibile, che però, se vogliamo poi analizzare le conseguenze sociali, economiche ed ambientali, sia forse un approccio che porti a una sottostima del fenomeno. Allora, pensiamo, ad esempio, a tutte le aree intercluse all'interno di oggetti edificati. Quelle sono aree che noi, dal punto di vista di impermeabilizzazione, probabilmente sono oggettivamente, magari possiamo considerarle aree verdi o comunque non sigillate, ma dal punto di vista della vita e della qualità della vita delle persone che vivono in quelle aree sono inevitabilmente aree perse, aree perse che non possono ritornare al loro naturale destinazione d'uso. Quindi, probabilmente, saremo destinati a una sovrastima del fenomeno rispetto ai numeri che, diciamo, abbiamo visto in questi giorni e abbiamo visto anche in passato. considerate anche, e qui faccio una breve, rapidissima, rapidissimo escursus, considerate anche però il tema della morfologia del territorio italiano. Allora, il territorio italiano, noi lo conosciamo circa 302 mila chilometri quadrati, 30 milioni di ettari, grossomodo. Allora, questo territorio non è un territorio uniforme, è un territorio che si presta, diciamo, al consumo di suolo, per così dire, in maniera assolutamente differente. Allora, qui stiamo parlando di un territorio che è a grosso modo circa un 32-35% di aree montane. Quindi, queste cifre che noi, diciamo, andrebbero assolutamente, forse sono anche più preoccupanti, ma andrebbero sicuramente lette al rialzo, perché non stiamo parlando del 7,7% di territorio consumato se lo rapportiamo a 300 mila chilometri quadrati. Saranno decisamente di più se lo rapportiamo a un territorio a cui abbiamo levato tutte le aree non edificabili o non consumabili, aree umidi e superfici la quale e quant'altro. Non stiamo parlando di poca superficie, quindi stiamo parlando di numeri che andrebbero, come dire, tra virgolette rivisti e, diciamo, resi anche più coerenti con la realtà. Terzo punto, la misurazione. Il tema della misurazione. Allora, abbiamo visto stamattina lo sforzo enorme di Ispra nel dettagliare quell'informazione preziosissima, sia a livello territoriale, sia per tipologia di consumo, che ha dato decisamente grandi spunti. Però io aggiungo anche un altro elemento a cui secondo me non dobbiamo rinunciare, la comunità scientifica non deve rinunciare, ed è il collegamento, stretto collegamento, tra territori consumati e obiettivi di questo consumo. Che cosa ne abbiamo fatto di questo territorio? Chi ci sta vivendo? Ci sono imprese, non ci sono imprese? Inquinano, non inquinano? Le persone che vivono in queste aree? Come vivono? In che maniera? Ci sono tutta una serie di ragionamenti che non possiamo fare semplicemente osservando da sopra che cosa è successo? Abbiamo consumato tanto suolo, va bene, ok, ma come l'abbiamo consumato? Per farci cosa? Questo è un altro elemento, quindi il link stretto, la connessione diretta stretta tra territorio e attività antropiche, chiamiamole così in termini generici, quindi l'attività dell'uomo, delle famiglie, delle imprese, della costruzione di infrastrutture, non possiamo abbandonarla, non possiamo lasciarla e far finta che non esista, insomma, cioè noi dobbiamo conoscere anche cosa sta succedendo su quei territori che abbiamo consumato. Dunque, cosa sta facendo l'Istat su questo tema? Potrei dire molte cose, però immagino che il nostro moderatore mi sta già riconducendo all'ordine. Raccolgo semplicemente con una battuta la provocazione di Marchetti, stiamo cercando di portare a casa proprio esattamente questo risultato. Abbiamo avviato un processo di modernizzazione dell'informazione, stiamo cercando di poligonare in maniera dettagliata il territorio e metterci sopra le persone, le imprese, le istituzioni, le infrastrutture, tutti gli oggetti statistici che generalmente misuriamo, facendo come? Cercando di lavorare integrando archivi amministrativi e sia da fonti di indagine, ma soprattutto attraverso una geolocalizzazione precisa dell'informazione statistica. Quindi in prospettiva futura avremo molta più informazione statistica sulle persone, sulle imprese, sulle istituzioni, ma soprattutto avremo molta più informazione geolocalizzata, quindi precisamente collocabile sul territorio. Questo credo che è un investimento enorme che stiamo avviando e che credo porterà dei risultati per tutta la collettività scientifica, non solo per quelli che si occupano di consumo di suolo, ma sicuramente daranno un impulso mettendo a confronto, come diceva Marchetti, copertura e uso del suolo. L'uso è già più difficile, ma sicuramente la copertura è un nostro obiettivo, copertura del suolo e soggetti che operano su quel territorio. Mettendo insieme queste informazioni credo che si aprirebbe una nuova stagione di lettura del territorio e soprattutto spero di politiche attive sul territorio. Grazie. Grazie.